Allora preferisci il cambio? Il cambio a palettino, sì. Ok, allora possiamo partire. Tutto a destra? Ok. Esatto. Quindi sei in cambio manuale. Sì, sì. Però se tu non cambi, cambia lui, eh? Sì, sì, certo, dopo un certo giro. Prima hai fatto traiettoria? Sì, sì, sì. Ecco, cerchiamo di... ti concentri sulla traiettoria? Certo. E se la sbagli te lo dico, però soprattutto ci concentriamo... un po' sulla velocità. Ok. Qua vai la corda, qua fai destra e sinistra, vai la corda e il tuo sguardo, mi raccomando, all'uscita, avanti, perché tu devi andare con la macchina a sinistra. Sì. Quindi fuori dalle curve devi cercare di avere il volante di non chiudere la corda. Sì, sì. Ok. Vai la corda, accelera pure perché possiamo andare molto più malucce, senza problemi. Qua a destra e a sinistra. Ok, poi c'è l'erale. Vedo che le traiettorie le fai molto bene. Sì, sì. Non occorre che scali tutte queste margine in curva. Ok. Ok. E poi fare... se vai troppo forte non preoccuparti, sono io il primo dietro. Ok. Qua poi non facciamo più i birilli, eh? Sempre dritti. Andiamo sempre dritti. Passiamo attraverso i due birilli, però andiamo dritti. Qui ci sono i birilli a sinistra e i punti di frenata. Ecco, no? Portarti al centro della pista, ma cerca di stare e di sfruttare tutta la pista. Ok, risulta la sinistra. Esatto. Lo stesso qua, cerca di sfruttare la destra, un petto di freni, accelerazione progressiva e via andare. Ok, guarda, guarda, guarda. Accende, apri il volante. Perfetto. Quindi, cioè... Sì, sì, sì. Portando avanti lo sguardo che riesce ad uscire... Tentino. Guarda la traiettoria, che la fai benissimo per la destra. portiamo sulla destra c'è la chicane, quella lenta di chiamata Schumacher questa è un po' sulla destra e poi sinistra a destra cercando di andare sulla sinistra del gas se ando in giro la facciamo bene qua puoi andare tranquillo senza nessun problema praticamente quando arrivi quella chicane si, è la tipica chicane che tu devi riuscire a inquadrare il punto in cui ti occorre il meno certo possibile quindi quando sei a un certo punto è come da tagliarsi qua c'è la destra e la sinistra, anche qua vedi che alla sinistra c'è ancora spazio ok, ci siamo ma tu hai già guidato prima di fare il polso in circuito? in circuito no, però con il go-kart guido sempre non è la stessa cosa ah, con il go-kart? si con il go-kart? fai gare? no, non corro diciamo che vado però ti vuoi divertire? si perché sono un appassionato delle nuove auto si perché si vede insomma si, ho l'inquadratura abbastanza buona si diciamo che cerchiamo di velocizzare ok frena pure quando te lo dico io al punto che è staccata ecco qua devi frenare perfetto qua non lo correva scalare in terzo voleva entrare si perché la scalata ti frena anche il motore qua devi frenare vai dentro apri dai gas ok con lo stesso freni vai dentro una dritta vai all'esterno della curva danno gas vai 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 stai sulla destra hai tirata un po' troppo poi hai tirato la macchina in uscita hai sentito che è frenato esatto lì potevi ancora aprire gas aprire il volante e invece vedi ancora spazio si qua come riferimento c'è i due bilini all'altra sinistra e per tutte molla il freno accelera anche qua apri il volante si adesso tu chiedi il permesso per superarlo ok ok numero 6 ti passo sulla destra posso? aspetta aspetta ok andiamo cerca di dare movimenti si per più possibili qua devi frenare qua stai pure no no stai sulla destra si ecco qua devi entrare adesso giri subito a destra e acceleri ecco potevi entrare leggermente prima meglio no meglio un po' prima e allora eri ancora più dritto perché la vista è non muove qua tutto a gas alla sinistra e come riferimento c'è i tuoi benelli bianchi sulla tua sinistra come tra l'altro c'è i tuoi benelli bianchi c'è i tuoi benelli bianchi sfrutta di più il circuito stai sulla sinistra apri il volante apri 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 ok vedi che adesso la macchina non si è scomposta si si quindi potrei farlo ancora più veloce ma ogni giro che fai ogni giro è sempre meglio lo so lo so lo so fare 30 giri allora vedi le migliorie la mettiamo qua a fianco comunque si vede che hai sei portato si mi fa piacere che lo veda anche lei anche tu anche tu